Enrico Bartoli, Martina Prosta, protagonista di questa cavalcata della Flaioni, avete vinto questa Final Six, vi siete qualificati per la Serie A, una grandissima emozione, non l'aspettavate? No, non ce l'aspettavamo perché il nostro obiettivo era quello di vincere il campionato, quindi già raggiungere la Final Six è stato un obiettivo grande e questa promozione in Serie A è stata proprio a ciliegino sulla torta. Da dove arriva questo successo? Un lavoro fatto in tutti questi mesi, vi siete allenati tutti i giorni? Arriva da non solo quest'anno ma anni precedenti di lavoro, di lavoro sul campo con le ragazze più giovani perché la squadra non è una squadra con giocatrici della stessa età ma c'è un divario molto alto di età, c'è differenza quasi di 10 anni anche con le giocatrici se non di più. Quindi è un lavoro che ci siamo guadagnate negli anni e grazie all'allenatore soprattutto in quest'ultimo anno dove ha spinto tanto sulla preparazione atletica che abbiamo raggiunto questo obiettivo. Martina, sei stata giudicata MVP di questa Final Six, se parliamo della coach Patrizio Pacifico, quindi è una grandissima prestazione da parte tua a questo concentramento di chiedi. Sì, io ringrazio l'allenatore Patrizio Pacifico, chiaramente non sta a me giudicare il lavoro che ho fatto, posso solo assicurarvi che ho dato il meglio di me ogni partita, ci ho messo sempre il cuore e è andata bene. Facciamo una domanda classica di questa situazione, a chi dedicate questo successo? Chi rispondete prima? Rispondo io, questo successo lo dedichiamo all'allenatore, alla società, ma soprattutto a noi perché ci abbiamo messo veramente tanta grinta, tanta forza, cuore, siamo una squadra unita e i risultati si sono visti. Enrica? Mi dedico a tutti coloro che si impegnano con la GSH, con il Flavioni, a partire da mia madre che è l'insegnante che crea i vivai nella scuola, nati a stanzione fino all'allenatore che ci allena e quindi ripeto quello che ha detto Martina. Quindi ora si festeggia? Ora si festeggia, faremo una grande festa e vediamo come iniziare questa Serie A perché comunque come avete già detto anche prima nelle altre interviste ha un costo notevole affrontare questa categoria.